è diventato un nonno al servizio degli americani, un nonno al servizio della Nato. Allora, Luciano Nobile ha sentito il nonno al servizio degli USA e della Nato, altro che al servizio delle istituzioni. Parliamo di Draghi che si era definito da solo, diciamo, nonno al servizio degli USA. Se i nipoti sono come Di Battista, teniamoci stretto il nonno, Mirta. Sessa, che dice? Siamo sull'assurdo più totale, devo dire, francamente è la verità. Parlo da cittadino. Comunque, Nobile, mi deve dare atto a Conte che ha fatto una mossa non da poco perché ha costretto il governo a fare un compromesso, a dire che le spese arriveranno a quella cifra nel 2028. Insomma, mi pare che comunque sia una granala innescata, un esultato rapportato a casa. In una linea, Mirta, in una linea di crescita degli investimenti in spese militari che è cominciata e ha avuto un'impennata col governo Conte. Non prendiamoci in giro, è una battaglia tutta politica. Se dovessimo stare al merito, io la farei la discussione sul merito, l'uso delle armi, l'industria bellica, che peraltro è un'industria spesso molto avanzata. Purtroppo, lo dico, è purtroppo molte delle scoperte tecnologiche dei nostri tempi come no, a partire da internet, assolutamente sì. Detto questo, se questa fosse una discussione seria, la affronteria seriamente. Siccome è una discussione puramente politica, è un'etica a corrente alternata, quella di Conte, per cui quando sta al governo lui aumenta le spese militari, quando invece c'è il crollo dei sondaggi e al governo c'è Mario Draghi, deve creare delle difficoltà al governo e provare a indebolirlo, in patria e nei contesti internazionali, che è più grave perché è un ex premier e quindi è un atteggiamento particolarmente irresponsabile, si fa una battaglia politica che fallirà come le altre battaglie politiche del Movimento 5 Stelle. Quindi, diciamo, la derubricherei a questo perché è questo, non è nient'altro che questo. Vabbè, lei derubrica...